Ciao! La custodi Carotina B Carotina B Carotina Super B Il Leprotto di Pasqua A domani, ragazzi! A domani, carotina! Cos'è questo rumore? Vado a vedere! Ehi, Chicoria! Perché ti sei travestita Dalle Protto Azzurro? Ciao, Carotina! Sto provando il mio costume dalle foto pasquale! Eh già! La Pasqua si avvicina! Ma perché hai tutte queste uova nella tua carriola? Sono per domani! Voglio organizzare una divertente caccia all'uovo per gli alunni della Super School! Ma è un'idea bellissima! Giacomo, nascondere queste uova in Giorgio! Vengo ad aiutarti! Ma prima, vediamo di fare qualcosa per le ruote della tua carriola! Fatto! Grazie! Ho ascoltato tutto! Adesso divento invisibile per non essere scoperto e vado subito a raccontarlo a Pepper Chaos! Insieme faremo qualcosa di grande! Amici, ora andremo a giocare insieme con le dolcissime uova di Pasqua! Carotina Super Tablet! Questo, amici, è un uovo di Pasqua! Proviamo a leggere la parola uovo! Forza, tutti insieme! Uovo! Bravissimi! Amici, ricordate quante sono le uova nella carriola di Chicoria? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette! Sette uova! Un uovo! Sette uova! Ma adesso andiamo tutti insieme ad aiutare Chicoria a nascondere le uova! E con questo abbiamo finito! Già! Tutte le uova sono state nascoste! E domani i nostri amici ne cercheranno! Viva la caccia all'uovo! Ogni uovo è ben nascosto anche l'ultimo è al suo posto! Ora ci laviamo le mani e aspettiamo l'indomani! Dappertutto fuggono e le uova troveranno! Dappertutto! Potremmo nasconderci lì dentro, Pepper Chaos! E mangiare un po' di cioccolata! Di certo nascosti in una tana carotina non ci scoprirà mai! Ehi! Devi trovarti un'altra tana, amico bello! Non c'è posto per tutti e tre qui dentro! Hanno rubato tutte le uova! Uova, non possiamo più farve la caccia all'uovo! Il nostro bel cortile! Non ti preoccupare, Holly Chip! Metto tutto a posto io! Rotocorcia! Soparfiuto! Sento odori di Pepper Chaos! E di peperoncino! E di cioccolata! Sono andati verso il boschetto! Un leprotto! Poverino, è malato! Lo porta a Chicoria che saprà come curarlo! Sono lì dentro! Ci penso io, vitamina super B! Carotina piccolissimo! Abbiamo mangiato troppa cioccolata! Abbiamo fatto indigestione! Quegli sciocchini sono lì dentro! Hanno mangiato tutte le uova e adesso gli è venuto il mal di pancia! La giusta punizione! Ma non possiamo lasciarli nella tana! Braccia lunghissime! Ecco fatto! Cioccolata per tutti! Questo è il regalo del nostro amico leprotto di Pasqua! Ma Pepper Chaos e peperoncino ne hanno già mangiato troppa! Non è così? Carotina ha vinto ancora! E la cosa mi addolora! Forza! Tutti insieme! Dai! Ballate con noi! Ciao! Carotina Super B! Carotina Super B! Ciao! 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 Grazie a tutti.